Tutti insieme per fare muro contro la decisione dell'Avvocatura di Stato di ricorrere in appello alle prime sentenze italiane emesse in favore dei familiari delle vittime delle stragi nazifasciste. Il Tribunale di Firenze infatti aveva condannato lo scorso novembre la Repubblica Federale di Germania al riconoscimento della responsabilità dei crimini di guerra. I sindaci dei comuni interessati di Toscana ed Emilia Romagna, compreso il territorio aretino, si sono ritrovati lo scorso 5 gennaio in Regione Toscana per valutare azioni congiunte. Il comportamento ostile, si legge assunto dall'Avvocatura di Stato nei confronti dei familiari delle vittime, equivale al tentativo incomprensibile e inaccettabile di annichilire la memoria e ogni sua forma. Memoria e testimonianza che da 80 anni grida giustizia e verità, ciò che invece per noi rappresenta il cuore del patrimonio identitario nazionale e i fondamenti della nostra carta costituzionale. Alcune azioni sono già partite, il sindaco di Stazzema ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sottolineare quanto sta accadendo. Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo si è assunto l'impegno a portare questo argomento nell'assise regionale.